La prima volta che la CGL manifesta così chiaramente contro un governo a guida PD, voi come la vedete? Beh, innanzitutto è una manifestazione contro il Job Act e per cambiare la politica economica del governo, è chiaro che è densa di significati politici, questa apre una riflessione per tutta la sinistra. Ma questa contrapposizione Leopolda-Piazza San Giovanni che ha voluto anche Renzi, crea una distanza incolmabile o ha bisogno ricostruire un rapporto anche con Renzi e il suo PD? Io penso che Renzi stia spostando significativamente il PD su posizioni inedite, è un partito che rischia di assumere sempre di più una collocazione centrista e sulle politiche del lavoro sempre più nella direzione degli anni 90 e quindi di una riduzione dello spazio dei diritti, di una compressione dei salari e quindi è chiaro che da questo punto di vista c'è un cambiamento di fase che va interpretato. Voi dissevi i candidati a rappresentare questa piazza? Noi ci candidiamo innanzitutto a portare in Parlamento e nel Paese le ragioni che stanno qui, è chiaro che questa piazza si rappresenta da sola.